Inaugurazione dell'anno scolastico 2021-2022, oggi siamo all'Istituto Tecnico Zerboni di Torino, a due indirizzi, la scuola Moda e Manutentori, e andiamo a fare due parole con il preside a sentire il messaggio che vuole indirizzare agli studenti in questo giorno così importante. Preside Rignanese, un messaggio agli studenti in questo primo giorno di scuola finalmente fuori dalla DAD? Il mio è un augurio, un augurio a tutti i nostri studenti, alle loro famiglie, perché la DAD possa essere soltanto un ricordo ed è un augurio perché si possa tornare a scuola, a crescere, a socializzare e come oggi ci ha detto anche la sindaca, a divertirci. Buon anno a tutti ragazzi, buon anno a tutti e alle nostre famiglie. Ci spiega che cosa è questa spilla? Il logo è il logo della nostra scuola, è stato disegnato dai nostri studenti, realizzato con una stampante 3D da altri studenti manutentori. Lo usiamo per far capire che la scuola è in movimento, in continua evoluzione. Sta crescendo, continuerà a crescere e soprattutto continuerà a sorprenderci.